Ciao a tutti ragazzi siamo tornati in Dirt Rally 2.0 pronti a partire con la nuova località siamo in Polonia sarà una tappa che comincerà alle 14 di pomeriggio dove il meteo sarà sereno e l'asfalto liscio e la terra ci darà tanto da fare la distanza saranno di 7 km e il cambio di livello 5 metri siamo praticamente in pianura ragazzi siamo pronti a partire ok in questa tappa visto che è una tappa molto breve andremo a mettere un tipo di gomma diversa dobbiamo un po' agire così nelle prossime tappe dobbiamo giocare un pochettino di astuzia allora visto che i pneumatici medi sarebbero i consigliati ok ma la tappa è molto breve quindi io andrei a mettere una gomma morbida visto le sue prestazioni la resistenza è molto debole ma noi abbiamo una distanza di percorso breve e quindi la andremo a provare facciamoci uno shake down prima di cominciare ok 5 4 3 2 1 via piatto sinistra 50 6 destra su crinale non tagliare 6 sinistra 50 piatto al centro su crinali 80 tieni il centro su salto 50 4 destra stretto 80 tieni il centro su salto 50 6 sinistra su salto lunga qualcosa che non mi quadra ragazzi abbiamo sbagliato qualcosa che macchina abbiamo abbiamo sbagliato ragazzi perché ok ragazzi abbiamo sbagliato porca misera abbiamo sbagliato la selezione della vettura non so come ho fatto ma l'ho cambiata nella programmazione del campionato comunque vabbè amene ragazzi andiamo avanti con questa vettura e niente iniziamo subito a sto punto siamo con la fort fiesta inizia piatto sinistra 50 6 destra su crinale non tagliare buona fortuna ok pronti a partire freno a mano tirato 5 4 3 2 1 via piatto sinistra 50 6 destra su crinale non tagliare 6 sinistra 50 piatto al centro su crinali 80 tieni il centro su salto 50 4 destra stretto 80 su crinale lungo in 6 sinistra stringe dopo l'incrocio 30 4 destra stretto su crinale lungo in 6 sinistra stringe dopo l'incrocio 30 4 destra stretto su crinale lungo in 6 sinistra non tagliare 5 sinistra apre lunga in 6 sinistra 30 4 destra lunga stringe su crinale 50 non tagliare 4 sinistra in 6 destra in 6 sinistra lunga 30 60 6 destra su crinale apre molto molto lunga in rallenta 6 sinistra lunga su dosso in 3 destra su crinale dosso in 4 sinistra lunga in 4 sinistra lunga in 4 sinistra lunga in 1 destra apre lunga asfalto non tagliare attraverso i coloni tieni la destra su 30 1 destra apre su crinale ghiaglia 50 5 sinistra in piatto destra su crinale apre lunga stringe su salto in 5 sinistra su crinale stringe molto lunga in 6 destra 50 si vada bene anche la piastra lunga apre piatto su crinale in 6 sinistra in 6 destra in attenzione 5 sinistra su salto 50 6 sinistra molto lunga stringe su dosso 50 4 destra lunga in rallenta 6 sinistra su crinale 30 1 sinistra non tagliare 30 6 sinistra 100 3 destra lunga stringe tronchi fuori apre su crinale 50 5 sinistra 50 6 sinistra su crinale molto molto lunga sul crocio che culo 3 sinistra lunga stringe 80 piatto destra su crinale molto molto lunga dai 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 4 sinistra su crinale molto lunga 4 sinistra su crinale molto lunga attenzione stringe 3 in 4 destra lunga 5 sinistra 5 sinistra 5 sinistra 5 sinistra stringe 4 destra lunga su incrocio al centro 6 sinistra molto molto lunga 6 sinistra molto molto lunga 170 dai siamo ancora primi per il momento attenzione 5 lunga stringe 4 6 sinistra 0 5 Jahre 5 sinistra 5 sinistra 5 sinistra 5 sinistra 5 sinistra 10 6 6 Dai! Due sinistra, 40, due sinistra, torno comune, asfalto, 160 sul traguardo, 50, allo stop. E senza una ruota, la prima tappa con 15 secondi di penalità ragazzi, cominciamo bene, cominciamo. La tappa è stata dura ma è sembrata veloce. Ok, non è andato proprio come volevo però dai, diciassettesimi ragazzi. Niente, noi ci vediamo al prossimo appuntamento e mi raccomando non mancate, prosegue il campionato Volkswagen Polo che in teoria era il Polo anche questo ma ci dovremmo sparare 12 tappe per errore quando ho fatto il campionato, ho scelto questa vettura per sbaglio, comunque va bene lo stesso, siamo con la fiesta. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo appuntamento, mi raccomando non mancate, ciao a tutti ragazzi.